Grazie per la visione! Offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante e pizzeria a marina di gioiosa ionica lungomare lato nord. Cicciodiano Calzature Vieni a trovarci nelle sedi di Roccella e Siderno. Cordialità e simpatia al tuo servizio. All'esterno, ampio parcheggio riservato. Simpli Monasterace. Via Nazionale 110, Monasterace Marina. Semplice la vita. Grandi magazzini Europa 2000 della famiglia Bonfà. Da più di 50 anni si occupa di arredamento, prodotti per la casa, materiale elettrico, lampadari ed elettrodomestici con il grande marchio Expert. Nella struttura di oltre 3.000 metri quadri, un unico grande negozio. Casa chic dove puoi trovare le migliori aziende di arredamento, ovviamente sempre tutto garantito dal nostro slogan, qualità al miglior prezzo. L'esperienza maturata nel corso di due generazioni di immobilieri ha permesso di sviluppare un'elevata professionalità. Oltre mezzo secolo di esperienza al servizio del cliente. Da noi puoi trovare un'ampia scelta per ogni soluzione, in stile o in design, il tutto ai prezzi più convenienti per il cliente. Bonfà significa la qualità al miglior prezzo. Grandi magazzini Europa 2000 a bianco. Arredamento completo, consistente in cucina completa, parete attrezzata, camera matrimoniale completa, divano a tre posti, al prezzo di 2.990 euro. Dalle alture del pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è al primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavologna Marina cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, gruppo Barbiero, a Cavologna Marina, in via provinciale. Qui la qualità è di casa. Panino con angusti prima scelta, Lilla 19. Grigliate miste, Lilla 19. Tagliate di carne, Lilla 19. Queste e tante altre specialità le troverai alla Braceria Paninoteca Lilla 19. Vasta scelta di panini e carne di primo taglio. Vieni ad assaggiare anche la nostra birra artigianale. Lilla 19. Ci trovi all'Ocri in via Giuseppe Garibaldi numero 161. Lilla 19. Il massimo del piacere con il massimo del gusto. Lilla 19. Il massimo del piacere con il massimo del puretente. finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Adesso puoi portare Telemia sempre con te, con la nuova app. Scarica da Play Store e App Store e con un semplice clic entrerai nel mondo di Telemia. Con il nostro live streaming, tutti i programmi on demand e le ultime news ovunque vorrai. Scarica l'app, Telemia è sempre con te. Grazie a tutti. 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 L'opposizione manca una visione, si ponga fine all'agonia della Calabria. Hanno scelto dunque il giorno in cui si riuniva il Consiglio regionale per spedire al governatore Mario Olivero una richiesta congiunta di dimissioni. Il centrodestra e il Movimento 5 Stelle ha chiesto le dimissioni del governatore. A viva voce, noi proseguiamo perché andiamo ad occuparci subito del taglio alto. Titolo sotto testata Catanzaro segue strati beni di due docenti, valore 1,3 milioni di euro nel mirino della Guardia di Finanza, professori universitari col doppio lavoro. La Corte dei Conti ipotizza un danno erariale per le attività extra accademiche. Sotto chiave sono finiti immobili, conti correnti e diverse attività finanziarie. Proseguiamo ancora con Gazzetta, la fotonotizia di centropagina perché ieri Taurianova ha dato l'ultimo saluto a Sissi Trovato. I funerali dell'agente di polizia penitenziaria morta dopo due anni di coma. Qui il Feretro, una città che ha partecipato ai funerali, è stato ieri un giorno triste per Taurianova con tanto di lutto cittadino. Andiamo ad occuparci adesso di spalla. Gli occhielli di Reggio e provincia, Reggio Calabria e rifiuti scendono in piazza. I lavoratori di AVR Sciopero con Presidio davanti al Comune e alla Prefettura dei Lavoratori di AVR Società che cura la raccolta dei rifiuti. Nel Mirino il ritardo degli stipendi di dicembre. Melito Portosalvo, holding messinese dello spaccio arrestato. Rosacci ancora vedete ad Africo, la Prefettura invia la Commissione d'Accesso Antimafia. Notizia che avete potuto leggere in tempo reale anche sul nostro portale e le nostre pagine Facebook. Qui il giovane sindaco Francesco Bruzzaniti. Decisione del prefetto Michele di Bari, su delega del Ministro dell'Interno. Al setaccio, gli atti dell'amministrazione comunale guidata da qualche anno dal sindaco Bruzzaniti. E noi proseguiamo. Evasione sui diritti di immagine pace fatta col fisco spagnolo. Ronaldo paga 18,8 milioni. Qui vedete Ronaldo ha patteggiato ieri una condanna a 23 mesi di reclusione che non sconterà. Abbiamo completato con Gazzetta tantissime notizie, quelle che troveremo anche all'interno. Abbiamo qualche problema con l'apertura del quotidiano del Sud. E noi per il momento ci andiamo subito ad occupare di quelli che sono i temi più importanti per quanto riguarda il nostro portale. www.telemia.it, anche qui notizie aggiornate dell'ultima ora. L'Ocri in candidabilità dell'ex sindaco di Siderno Pietro Fu, del Tribunale, si riserva a decisione. Poi in Bacheca, Seminara, Frana, in località Sant'Anna, preoccupante. Il sindaco Carmelo Arfuso annuncia la convocazione di un consiglio comunale urgente. Partito Democratico in crisi nella nostra regione, commissariato il PD a Oliverio o nuova fase o si muore. Situazione difficile all'interno del partito regionale. Poi c'è la controcopertina con l'appuntamento dell'USB a Marina Di Gioiosa. L'ultima battuta con Siderno Superiore che ha presentato il progetto di accoglienza di due famiglie nigeriane. E poi per lo sport, vedete in Serie D, c'è ancora grande soddisfazione dopo la splendida vittoria della Palmese che ha vinto fuori casa e soprattutto l'impresa della cittanovese contro il Bari. Regina è fatta per il nuovo attaccante, è stato ufficializzato Bacle, che dunque diventa il nuovo attaccante della Regina, del nuovo presidente Gallo. Poi per l'attualità, nuovo farmaco contro il cancro accordo con l'Università di Siena per sperimentazione in Calabria. Lo abbiamo detto a Siderno, presentato il progetto di accoglienza di due famiglie nigeriane. Questa è la foto di gruppo. Per quanto concerne invece gli altri fatti, Catanzaro, il ceravolo, diviene terreno di scontro. Non ci sono altre notizie importanti, tranne che ieri a Taurenova c'è stato l'ultimo saluto a Sissi Trovato. Mazza, possiamo tranquillamente lasciare anche il nostro portale. Abbiamo anticipato tantissime notizie importanti per quanto riguarda naturalmente i quotidiani calabressi. Proviamo anche a riaprire il quotidiano del Sud per dare un'occhiata alla prima pagina, ad analizzare anche i temi all'interno. È in grande ritardo quest'oggi sul portare il quotidiano del Sud, che noi stiamo riaprendo in tempo reale e in diretta, insieme a voi, per vedere se abbiamo finalmente la prima pagina per quanto riguarda l'edizione di questo 23 gennaio 2019. Nel frattempo andiamo subito a dare un'occhiata a quelli che sono gli altri fatti del giorno che riporta Gazzetta del Sud. Intanto abbiamo finalmente il quotidiano, è stato scaricato da qualche seconda e noi lo abbiamo già sul nostro portale. Andiamo a dare subito un'occhiata al titolo che riserva in apertura. A Catanzaro, università, sigilli ai beni di due prof e la Corte dei Conti, contesta sei anni di attività extra-professionale, vietata, fingevano consulenze, ma erano visite private, valore del sequestro 1,3 milioni. Tre notizie per quanto riguarda il taglio alto, sono tutti titoli sottotestata, migranti, Francia, il Premier Conte, media, ma si apre il fronte berlino. Qui in questa foto appare il Premier Conte. Politica, show dei 5 stelle, ecco il reddito di cittadinanza. Di Maio presenta il reddito Oscar 2019, la nomination trionfo per Roma e la favorita. Noi andiamo avanti, è filmato l'aguato tra gli studenti a Crotone, ci sono due arresti, un test, riconosce dunque l'uomo che ha sparato, aveva un fucile, come nei film. E poi Regione, la seduta del Consiglio regionale della Calabria di ieri a Palazzo Campanella. Oliverio ha sediato alla cittadella stretto tra grillini e opposizione. Qui la conferenza dei consiglieri d'opposizione che hanno chiesto le dimissioni del governatore calabrese coinvolto. Dunque in queste ultime settimane in una situazione giudiziaria che ancora non è stata risolta. Poi diario della memoria, il padre Sissi amava la vita, voglio la verità, ieri intanto i funerali. Il caso, 5 ospedali per il femore rotto, poi il ricovero in Basilicata. Qui un medico in ospedale, il caso della sanità calabrese. E ancora poi a Seminara, il taglio basso, frana, nuovo vertice in prefettura. Settin di un gruppo di cittadini a Reggio, le abitazioni sotto esame. Sindaco preoccupato, l'attenzione dice il primo cittadino in paese, altissima consiglio comunale, intanto urgente. Televisione liberi di scegliere, la Fission presentata a Montecitorio, andata in onda ieri sera con record di ascolti. Sulla Rai, Falcomatà, un riscatto è possibile, lo dice il sindaco della città. E poi in Cosenza, arbitra e aggrediti, il calcio calabrese unito contro la violenza per la politica, Partito Democratico. Graziano domani incontrerà i dirigenti regionali. Questa era l'ultima notizia della prima pagina del quotidiano del Sud. Abbiamo completato le notizie di apertura con il quotidiano. È il momento adesso di occuparci subito dell'interno per quanto riguarda proprio il quotidiano, che diventa così la nostra prima pagina di informazione. Andiamo subito a dare un'occhiata alle pagine regionali per occuparci di temi tutti calabresi, il far west di Crotone. Vediamo subito la notizia. Filmato l'aguato tra la folla di studenti, scattano due arresti, le indagini della polizia, reazione al pestaggio avvenuto poco prima. E ancora dalla spedizione con i bastoni agli spari. Proseguiamo perché c'è la pagina numero 5 ancora per quanto riguarda la notizia far west a Crotone, riportata nelle pagine regionali di primo piano. L'autista del bus aveva un fucile come quello dei film. Un test riconosce dunque l'uomo che ha sparato. Il killer mirava ad altezza l'uomo. Il profilo tra andrangheta, rapine e droga. L'ambiente in cui vivono gli indagati precedenti dei due finiti nella rete della mobile. Per quanto concerne adesso le pagine regionali Calabria, anticipiamo l'apertura. Tra poco i temi tutti locali con Locride e Piana. Nel frattempo Catanzaro sigilli ai beni di due prof dell'OMG. Sequestro della finanza beni e titoli per un valore di 1,3 milioni lo anticipavamo nei titoli di apertura. La Corte dei Conti gli contesta sei anni di attività extraprofessionale vietata. Fingevano consulenze ma erano visite private. Lo scrive Stefania Papaleo e qui la Guardia di Finanza. Due notizie in brevi. La prima arriva dall'Aggiunta regionale calabrese, sì, alla Costituzione di parti civili. L'altra riguarda la cronaca ed arriva da Monte Giordano, centro del Cosentino. Sorpreso con 150 kg di Ascish è arrestato. La politica adesso, la ricca pagina della politica con il centrodestra del Movimento 5 Stelle che chiede le dimissioni di Oliverio. Oliverio assediato alla cittadella. I numeri non ci sono per la minoranza, la regione è ingessata. Fuori si tenne dei grillini, dentro l'opposizione. Entrambi chiedono le dimissioni del governatore calabresa. Mario Oliverio, dunque, viene chiesta per l'ennesima volta di lasciare l'incarico di presidente della regione Calabria. E poi l'Unione Europea. La mafia è trastazionale, servono norme efficaci. La Ferrara le chiede in campo finanziario. Partito Democratico, lo dicevamo, arriva il Graziano. Giovedì, dunque domani, incontrerà i dirigenti regionali. Ascolto e confronto, questo è l'importante appuntamento di domani. Sarà ascolto e confronto, sono da sempre gli elementi imprescindibili della mia azione politica e saranno centrate anche in questo viaggio nel Partito Democratico della Calabria che inizierà nella giornata di domani. Lo dice a chiare lettere il commissario del PD della Calabria Stefano Graziano che ha convocato per domani una serie di riunioni che coinvolgeranno i segretari delle federazioni provinciali, i parlamentari, i rappresentanti istituzionali e i consiglieri regionali. Un partito che è commissariato in Calabria ed è in grande difficoltà. Lavoro, i terocinanti del MIBAC chiedono certezze. Il progetto scade il 28 febbraio, inviata la lettera a Oliverio. L'Aula Consiglio Flash, approvate quattro leggi. È stata una seduta del Consiglio regionale della Calabria Flash e quella di ieri, comunque approvate durante l'assise quattro. Dunque, leggi. Cosenza, il calcio unito contro la violenza. La pagina è la numero 9, il servizio di Tiziana Aceto. La Calabria non deve avere più il premato negativo di aggressioni sui campi. Incontro tra vertici del Comitato della Federazione Italiana Gioco Calcio, sezione arbitri e società sportive. Vedete intanto l'incontro che si è tenuto a Castrolibero a Cosenza. San Nicola, Arcella, cinque ospedali per un femore rotto. Ricovero poi in Basilicata, sembrato quello risolutivo. Confindustria, Rubettino, miglior azienda per alternanza scuola-lavoro. Premio alla casa editrice di Soveria. Ad Africo, lo dicevamo già prima attraverso Gazzetta, commissione d'accesso al Comune lo ha deciso. Il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, su delega del Ministro dell'Interno, che ha disposto dunque un accesso ispettivo antimafia al Comune di Africa al fine di compiere accertamenti ed approfondimenti per verificare l'eventuale sussistenza di forme di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso. Ospedale di Locri, la vicenda degli ascensori guasti, Udicon e subito gli interventi. E poi a Catanzaro, vedete, sprofonda la strada. Questa è la fotonotizia voragine di due metri, come si evince da questa foto. Noi voltiamo pagina e ci andiamo ad occupare delle pagine adesso del Diario della Memoria. Oggi due pagine interamente dedicate a Sissi, amava la vita, ora voglio la verità. Maria Teresa ha trovato Mazza, 28 anni di Taurianova, colpita la testa, muore dopo due anni di coma. Ieri funerale, l'ultimo saluto della città di Taurianova. Vedete la bara di Sissi preceduta dall'ostriscione del Comitato Nato per chiedere la verità sulla sua morte. L'abbraccio, dunque, della comunità e il dolore della famiglia. Noi cambiamo argomento perché ci andiamo subito ad occupare delle notizie della provincia. Il sindaco solo con l'opposizione. Melito Portosalvo in aula, il Consiglio Comunale, neppure i numeri per la surroga. Bidonato dalla sua maggioranza dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio. Situazione difficile quella che deve gestire il sindaco di Melito, Giuseppe Meduri, che appare in questa foto. Invece a Bagnara, il flag dello stretto e l'UNESCO per l'area marina protetta della Costa Viola. L'incontro dei promotori si terrà venerdì. A Bova di spalla questa notizia, celebrando il santo patrono dei giornalisti. A Motta San Giovanni, altro centro del Regino, un patto di ferro per il nostro territorio. Il sindaco con i vertici del Consorzio di Bonifica, Basso Iognio, punta alla difesa del suolo, al rimboschimento, all'aumento delle aree degli invasi. Qui vedete l'incontro tra Comune e Consorzio. Adesso è il momento delle notizie della Locride. Ci sono due pagine, tutte notizie importanti. Ad iniziare da Africo, accesso ispettivo antimafio. Il prefetto invia la commissione al Comune per tre mesi. Approfondimenti per verificare infiltrazioni o condizionamenti. A Gioio Saioni, Candrangheta, coraggio e speranza per Manzini con la presentazione di questo libro. All'Ocri, il Liceo Classico, apre anche di notte sabato fino alle 23, originale iniziativa all'Ivo Olivetti. Teatro, mostre, laboratori e musica. Lo scrive dunque il quotidiano del Sud. Porta aperte fino a notte fonda all'Ivo Olivetti. Sabato prossimo, dopo l'ottima riuscita della quinta edizione della notte nazionale del Liceo Classico, l'Istituto Locrese di via Cristoforo Colombo ospiterà infatti dalle 18 alle 23 l'Open Night. E ancora Monasterace adesso con Vincenzo Racco. Nessun caso di malasanità, lo ribadisce la famiglia. Caroli invece a Sederno riparte il forum del terzo settore. Scoppia il caso del distretto Sud. Piani di zona, servizi, socio assistenziali. Vedete qui la riunione del forum del terzo settore della Locride. Andiamo avanti ancora i temi che riguardano il comprensorio. La pagina 17 spunta il gruppo di Armocida Monasterace che incomincia a occuparsi con i gruppi presenti sul territorio del prossimo voto amministrativo. Ci sono i primi movimenti che portano verso le elezioni amministrative di maggio. L'ex assessore alla guida di una compagine espressione del borgo medievale. Si fanno tantissime voci in questi ultimi giorni e adesso spunta anche il gruppo di Armocida. Tre mesi di scadenza dalla data di presentazione delle liste per le elezioni comunali del 26 maggio a Monasterace si lavora per la composizione delle stesse. Un'elezione che si preannuncia incerta come incerti i candidati a sindaco che si andranno a sfidare. Qui vedete la sede degli uffici comunali di Monasterace. Contatti tra governo uscente e democratici attivo comunque come al solito Palmiro Spanò. Ad Ardori invece altro comune dove si voterà a maggio Angiò guarda il voto per il comune. L'ex vice sindaco se in tanti lo riterranno utile non mi tirerò indietro dice Giuseppe. Angiò lo ribadisce in questa intervista che ha realizzato Natalino Spatolisano. Abbiamo completato con la Locride Siamo adesso pronti per dare un'occhiata anche alle notizie della Piana iniziando da Taurianova e Ferraro il nuovo vice sindaco. L'assessore al Guelfare sostituisce la dimissionaria Patrizio. Adesso bisogna dare continuità nel progetto dice la Ferraro. Proseguono le fibrillazioni nella compagine amministrativa guidata dal sindaco Scionti. Numeri, ballerini e ancora rizziconi per cambiare argomento. Qui la foto delle condizioni della strada provinciale 30. la viabilità della terrenica ridotta da anni a una groviera di buche città metropolitana che finisce nel Mirino e non è la prima volta. Le strade provinciali in tutta la provincia sono veramente in una situazione precaria. Varapodio, strade provinciali, stato di degrado, Fazzolari pronto a ordinanza urgente. Adesso c'è il sindaco Orlando Fazzolari, primo cittadino di Varapodio che certamente non è contento della situazione di degrado che vivono le strade provinciali. Gli amministratori di Palazzo Alvaro si dimettano, dice Orlando Fazzolari. Noi proseguiamo perché ci occupiamo adesso di seminare. A pagina 19, dopo la frana, il torbido fa paura. Altro vertice in prefettura, si tiene a Reggio, abitazioni sotto esame. Sindaco preoccupato, la tensione in paese è altissima, consiglio comunale urgente. Vedete qui la sede della prefettura di Reggio, il prefetto di Bari e il sindaco Carmelo Arfuso, primo cittadino di Seminara. Polistena, lo dicevamo già prima, Bungaro e i suoi musicisti per quanto riguarda l'iniziativa che è stata messa in campo nella città della piana, tra le più importanti della piana di Gioia Tauro. Siamo già allo sport, Marcello vuole la Juve, l'Inter è su Isco, le Calabresi, Cosenza e Crotone ci siamo. Arrivano alcuni acquisti importanti per le due squadre di Serie B, Islov già in riva al Crati, Bachelet e Amaranto, Crociata al Carpi, i Selani vicini ad Envalo e il Pitagorici stanno per ufficializzare Maccad. E dunque ci sono tante novità importanti. Intanto Serie C, Cevoli, Regina restiamo umili, lo abbiamo detto prima, perché l'ha fermato, ma non è tra i convocati per la sfida di questa sera alle 20.30. Gallo, amministratore unico, al Granillo, arriva la Viterbese, il tecnico, non dobbiamo subire in avvio. Importante questa sfida della Regina che è presente il Tridente con Viola, San Domenico e Strambelli. Ancora, per quanto riguarda il derby, Vibonese e Catanzaro, derby intenso, si gioca dunque alle 20.30, Luigi Razza, vedete Catanzaro che vuole proseguire il trend positivo, Vibonese che vuole dimenticare la sconfitta di Domenico. Orlandi, gara difficile, ma possiamo fare bene, riecco prezioso e Allegretti, il Catanzaro riconfermato con Fisci Naller in avanti insieme a Ciccone e Dursi. Cittanovese, il Tris è servito, la bella prova della Cittanovesa di domenica, vittoria storica sul Bari capolista e poi, vedete, ancora altre notizie di calcio e anche di volle e con la volle isoverato l'unione fa la forza. Abbiamo così completato con la prima testata calabrese che abbiamo analizzato il quotidiano del Sud, possiamo tranquillamente staccare con il quotidiano e andiamo subito adesso ad occuparci di Gazzetta del Sud e non vediamo aggiornamenti sul nostro portale Gazzetta per dare un'occhiata a quelle che sono le notizie all'interno nelle pagine regionali ed apriamo anche la seconda parte di questa nostra diretta del mercoledì 23 gennaio 2019. Andiamo subito nelle pagine regionali calabresi. Il patto Andrine, Albanesi e un'emergenza europea. La parlamentare calabrese Ferrara, relatrice del report dell'Unione Europea su criminalità e corruzione, rilancia l'allarme e reclama interventi legislativi. Le due organizzazioni hanno lentamente invaso anche il Regno Unito. Vedete qui in questa foto l'europarlamentare calabrese Laura Ferrara del Movimento 5 Stelle. Il centrodestra chiede a Oliverio un atto d'amore, si dimetta. La minoranza va all'attacco per mettere fine all'agonia della Regione Calabria. Oggi ha più servizi anche il nostro DG con il centrodestra del Movimento 5 Stelle che chiede al governatore calabrese le dimissioni. La minoranza va all'attacco dunque del Presidente della Regione e della sua giunta. Il governatore invitato a dimostrare il suo affetto per la Calabria restituendo ai cittadini la possibilità di tornare presto alle urne. Davanti a Palazzo Campanella ieri c'è stato un sit-in del Movimento 5 Stelle per dire a Oliverio di farsi da parte. Intanto ieri approvata la legge per la gestione RSU e noi proseguiamo altre notizie da Catanzaro la consulta deciderà sullo stipendio tagliato alle garante per l'infanzia. Il contenzioso avviato da Marilina in Trieri il Tribunale Catanzaro ha trasmesso ieri tutti gli atti alla Corte Costituzionale. Una legge del 2011 ha sforbiciato di quasi il 75% l'indennità riservata per chi esercita il ruolo. Vedete qui ex garante Marilina in Trieri fu scelta dal centro-destra nel 2011 quando alla guida c'era Giuseppe Scopelliti. Doppio lavoro sequestrati beni a due docenti andiamo a pagina 19 nel mirino della Procura regionale presso la Corte dei Conti finiscono cattedratici dell'Ateneo Magna Grecia di Catanzaro. Gli incarichi esterni erano incompatibili con lo status di professori universitari a tempo pieno. I militari della Guardia di Finanza mettono sotto chiave un patrimonio di circa 1,3 milioni di euro. Qui in questa foto appare l'Università Magna Grecia di Catanzaro sotto i riflettori della Procura regionale presso la Corte dei Conti sono finiti due docenti dell'Ateneo. Le inchieste intanto sull'Università in questo servizio di spalle e poi l'approfondimento. C'è chi pensa di godere dell'impunità il preside della Facoltà di Medicina favorevole a un maggior rigore. Non tutte le attività esterne debbono essere autorizzate dai vertici dell'Università. L'interpretazione della riforma Gelmini ha dato adito a situazioni spesso incontrollabili. Adesso cambiamo argomento andiamo a Crotone sparatoria tra la folla nel Rione Gesù due arresti della Polizia dominare la cronaca. La squadra mobile ha fatto luce sull'agguato del 9 gennaio scorso a Crotone. Ferdinando la forgia avrebbe tentato di uccidere Mario Cimino che era armato ed accusato di tentato omicidio Ferdinando la forgia in questa foto e qui in carcere per armi è finito. Mario Cimino sarebbe sfuggito all'agguato. La pagina di Reggio come facciamo ogni mattina la legalità non ha colore politico e il consigliere metropolitano auspica una congiura virtuosa per ridare slancio alla comunità. Lamberti Castronuovo che appare in questa foto afferma come la cultura la musica l'amore che si deve avere per la città che va servita. La lotta alla mafia si fa con i fatti non a parole lo dice a chiare lettere dunque. Edoardo Lamberti Castronuovo mostra con orgoglio in questa foto uno dei quadri confiscati a Campolo e restituiti ai reggini. La notizia di spalla lente si rinnova e questo il punto di domanda a Metro City si cambia accolta l'idea di Falco Matà eccolo in questa foto riformatore il sindaco della città metropolitana Giuseppe Falco Matà e poi ancora Racket nuova opzione del comune a supporto di zero glutine dopo l'incendio dello scorso novembre che ha distrutto il negozio e l'ospitalità temporanea nell'urban center offerto l'utilizzo di uno dei box del mercato coperto di via Filippini l'amministrazione su preciso indirizzo del sindaco Falco Matà non lascerà da sola questa famiglia vedete intanto qui Saverio Anghelone istituzioni dice vicine agli imprenditori vessati abbiamo completato con la pagina di Reggio siamo nella parte finale della nostra rassegna stampa siamo già alle notizie della Tirrenica ci occupiamo di Piana l'emergenza è sotto controllo ma come evolverà la frana e questo il punto di domanda seminare a sitim dei cittadini di Contrada Fondaco di Sant'Anna davanti al palazzo del governo durante il vertice nei pressi del torrente torbido si è verificata la rottura della conduttura fognaria vedete qui palazzo del governo il sitim degli abitanti di Contrada Villa San Giovanni l'anagrafe del comune inaccessibile per i disabili e poi ancora lo svincolo sud una priorità per scongiurare l'isolamento vedete autostrada del Mediterraneo in questa veduta il tratto in cui dovrebbe ricadere lo svincolo di Bagnara Sud l'ipotesi progettuale realizzabile con 15 milioni la chiusura ha messo in ginocchio comunque l'area industriale a Villa San Giovanni allarme erosione dopo le mareggiate devastato dalle onde l'arenile di Porticello trema anche Cannitello vedete qui questa la situazione prima della posa del barriere e poi a Santo Femmio da Spromonte sportello aperto il pomeriggio il sindaco di Santo Femmio incontra il direttore di poste italiane l'azienda valuterà la richiesta di potenziare il servizio nei primi giorni del mese a fianco Palmi le cause della società violenta come prevenire intervenire convegno al centro presenza di Palmi il dolore persissi ma ora la verità ieri l'ultimo saluto a Taurianova una folle enorme ha partecipato a Taurianova ai funerali dell'agente di polizia penitenziaria morta dopo due anni di coma fiori palloncini bianchi e una canzone di Eros Ramazzotti per l'ultimo viaggio colpita alla testa da un proiettile in un ascensore dell'ospedale civile di Venezia nel 2016 vedete il momento dei funerali e qui vedete la chiesa di Santa Maria delle Grazie i funerali di Sissi trovato alla presenza anche delle istituzioni locali Ferraro vice sindaco Patrizio zittisce le voci Taurianova l'assessore alle politiche sociali sostituisce la dimissionaria che conferma i motivi personali della scelta delle sue dimissioni la prima dei non eletti non commenta l'ipotesi di subentrare a Romeo vedete qui Raffaella Ferraro nominata vice sindaco della città di Taurianova donazione di BCC Young Medical bag alle scuole e poi di sesto stradale diffidata la città metropolitana il sindaco di Varapodi Orlando Fazzolari chiede interventi risolutivi sulla provinciale 29 o interverrà in danno cedimento strutturale di un muro di contenimento in località Barbara vedete la strada provinciale 29 il tratto di muro crollato e il manto dissestato anche dagli ultimi eventi atmosferici proseguiamo siamo ancora nelle pagine della tirrenica Polistena la tac per l'ospedale in appalto il 30 gennaio si sta per sbloccare l'iter della nuova ala che ospiterà la risonanza magnetica qui l'ospedale Santa Maria degli Ungheressi di Polistena l'unità operativa di radiologia l'Arpacal sta monitorando al porto la presenza di contaminanti Gioetauro e Crotone le aree scelte per verificare la presenza di sostanze chimiche pericolose vedete Arpacal le fasi della raccolta e del campionamento di pesci per verificare la presenza di contaminanti chimici utilizzati come bersaglio per il campionamento pesci i risultati saranno diffusi ad aprile dal Ministero dell'Ambiente posizionate tre stazioni per la classificazione dei sedimenti una all'interno dell'area portuale e due esterne sold out per Bungaro tra musica e poesia il cantautore incanta il pubblico con i brami dell'album Marendentro vedete qui l'esibizione di Bungaro il concerto inaugurale a Polistena dalla Piana a Reggio per l'ultimo saluto a Solua San Ferdinando una delegazione per migranti all'obitorio dove è stata fatta l'autopissia sul 18enne presente una delegazione della Flai Cigelle che ha pagato le spese per il rimpatrio dell'immigrato due reggini nella holding messinese dello spaccio di Asces e Marijuana adesso apriamo le pagine della Ionica operazione Fortino in primo piano sono accusati di essere stati i fornitori di un chilogrammo di erba San Lorenzo sono Lorenzo Anghelone di Bagaladi e le Melitesse Santoro Rosaci vedete qui la polizia nel Fortino il rione Valle degli Angeli di Messina a fianco ancora Melito Portosalvo per cambiare argomento consiglio Melito lite sulla presidenza maggioranza ancora assente in blocco e il nuovo appuntamento è fissato intanto per oggi il congedo definitivo del presidente Cozzucoli lascio solo per motivi di lavoro dice a Palizzi via la verifica sismica per il plesso della Alampi noi andiamo avanti perché ci occupiamo ancora di Melito la sede dell'Inpes è già andato via ma teniamo i contatti Melito la sede ha chiuso ricordiamo i battenti già da lunedì per quanto riguarda ancora i temi della Ionica la notizia più importante è senza dubbio questa che arriva da Africa accesso antimafia per il comune di Africa il sindaco piena fiducia dice Francesco Bruzzaniti il sindaco il giorno del suo insediamento qualche anno fa la prefettura ha disposto l'invio di una commissione d'inchiesta sugli atti dell'amministrazione comunale Bruzzaniti assicura totale collaborazione con l'organo inquirente e ancora per quanto riguarda le notizie che riporta Gazzetta la giudiziaria presunti finanziatori dei clan davanti al GUP i 48 indagati approda nelle aule di giustizia l'inchiesta martingala della procura distrettuale secondo l'accusa il sodalizio criminale con base a bianco e contatti anche all'estero avrebbe gestito ingenti flussi irregolari di denaro qui in questa foto distretto antimafia la direzione in che l'inchiesta della procura regina vede coinvolta 48 persone siamo agli ultimi le ultime news per quanto guarda Gazzetta vertice sull'ospedale con il neocommissario convocato per domani dal prefetto Candia denunceremo lo stato di profondo disagio e abbandono in cui versa il nostro combiolo cresce qui Franco Candia e Rosario Rocca in questa foto leader dei sindaci della Locri open night porti aperte al ceo classico Liveti Locri appuntamento sabato dalle 18 alle ore 23 stiamo per completare la notizia di pagina 13 l'eliminazione di Damiano Vallelunga ucciso perché era troppo autoritario riace le motivazioni della sentenza d'appello del processo faida dei boschi presunti mandanti Vincenzo Gallace e Cosimo Giuseppe Leuzzi due ergastoli e 107 anni di carcere qui la sentenza con tutti i nomi per quanto riguarda invece Caolonia Armando Scuteri riporta la notizia Allaro due anni dopo lavori di nuovo fermi non c'è pace per il ponte Allaro la telenovela del ponte prosegue si attende ancora l'arrivo delle trivelle adatte Guado a buon punto vedete qui il Guado dovrebbe essere ultimato comunque entro febbraio Martone progetto per gli anziani utile anche ai giovani per l'assistenza domiciliare quello messo in campo dall'amministrazione comunale guidata da Giorgio Imperitura e poi a Bivongi cani randaggi qualcuno ha tentato di avvelenarli tutto questo nella vallata dello Stilaro lo scrive Ugo Franco la differenziata non la vogliono e continuano a scaricare in strada Siderno un malcostume che ha raggiunto livelli preoccupanti un fenomeno di inciviltà notevolmente acuito con l'abolizione dei cassonetti vedete una delle discariche brutto spettacolo quello che si vede spesso e volentieri a Siderno e in questo caso in via Torrente Garino era questa l'ultima notizia per quanto riguardava Gazzetta del Sud non ci sono altri aggiornamenti neppure sul nostro portale per cui la nostra diretta si completa qui per quanto riguarda la rassegna stampa di questo mercoledì 23 gennaio vi rinviamo alla nostra prima edizione del TG News in onda alle ore 13.30 per fare il punto di quelle che sono tutte le notizie importanti della giornata e i nostri servizi grazie perché anche oggi ci avete preferito sul canale 85 e in diretta su Facebook ci ritroveremo puntualmente domani a tutti voi una serena e felice giornata con Telenia arrivederci a tutti i nostri servizi a tutti i nostri servizi Grazie a tutti. La festa, gli ambiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriannale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Da Rita Severino sono partiti gli schiali, dal 30 al 60%. Abbiamo incontrato molte persone nella nostra lunga esperienza. Erano industrial, contemporanei, classiche, shabby chic, moderne. Ma tu? Di che stile sei? Tu chiami la tua casa e vuoi un arredamento che abbia la tua personalità. È per questo che ti abbiamo chiesto di che stile sei. Arredo casa, via Cusmano. Alocri. Arredo casa è anche un originale idea regalo. Arredo casa, lo stile che vuoi. Conad Riace. Prezzi bassi e fissi bloccati per tutto l'anno su 180 prodotti a marchio Conad. Reparto bio e alimenti senza glutine. Da noi trovi anche pane caldo appena sfornato. Nel reparto gastronomia trovi i migliori prodotti a chilometri zero. Un ampio reparto ortofrutta con ortaggi e frutta fresca locale e di qualità. Tra le offerte del periodo trovi. Se sei cliente Conad, grazie alla raccolta punti potrai scegliere tanti regali delle migliori marche e buoni spesa tutto l'anno. All'esterno 1800 metri quadri di parcheggio. Conad Riace. Via Nazionale 31. Riace Marina. Persone oltre le cose. Officina Audino. Lavori fatti con grandi accuratezze e precisione. L'officina è lieta di presentare a tutta la sua clientela il nuovo generatore di idrogeno capace di farvi risparmiare carburante dal 30 al 50%. E non solo. Emissioni di CO2 pari quasi a zero. Pensate solo con l'uso dell'acqua distillata. Inoltre l'officina propone il servizio gomme nuove e seminuove con equilibriature e convergenza tutto computerizzato. Altro servizio di cui disponiamo è il lavaggio. Officina Audino. Strada provinciale. A Caulogna Marina. L'auto dalla A alla Z. Centro medico gastroenterologia ed endoscopia digestiva. Endo studio del dottor Giuseppe Cautela. All'Ocri la nuova struttura realizzata in veste moderna è secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. E' centro di eccellenza in endoscopia. Dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione alla vanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocoronoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia. Agua aspirato. Ecocolor Doppler. Endo studio del dottor Giuseppe Cautela. Via provinciale con trada riposo. All'Ocri la scienza medica al servizio del paziente. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. E' dotata di ogni comfort tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. E' autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio Hostess, servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi, mascotte gonfiabili, teatro di burattini, cabaret, serate karaoke e balli di gruppo, animazione e compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 6907728. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano. Dalle alture del pollino, lassù, nei verdi pascoli lussureggianti, arriva la carne per le terre del sole. La natura sana è a primo posto nella nostra scala dei valori per garantirti sempre un'elevata qualità nella tua tavola. Nel nuovo punto vendita di Cavolonia Marina, cuciniamo per te tutti i sapori della terra ed ancora un vasto assortimento di prodotti per avere solo il meglio. Terre del Sole, gruppo Barbiero, a Cavolonia Marina, in via provinciale. Qui la qualità è di casa.